Dentro la notizia il forum di Telesirio dedicato agli approfondimenti, alle notizie più importanti che riguardano la città. Siamo negli uffici dell'MP parcheggi con Mauro Santilli, amministratore delegato dell'MP e siamo qui per dare innanzitutto una buona notizia. Già è una settimana che il tunnel che porta dal megaparcheggio di Colle Maggio in Piazza Duomo è attivo, una richiesta che il Comune dell'Aquila aveva fatto almeno per queste grandi manifestazioni che stanno arrivando in città, la perdonanza, poi ci sarà il jazz. Comunque rimane un discorso un po' a 360 gradi sul megaparcheggio che cercheremo di affrontare con Mauro Santilli ovviamente in poco tempo anche se poi le tematiche sono tante. Innanzitutto la buona notizia, per il momento il tunnel funzionerà solo pedonalmente, ve lo aveva chiesto il Comune, era vostra intenzione anche farlo, però insomma è sicuramente una buona cosa per gli aquilani e anche per i turisti. Sì, certamente, anche perché chiunque viene, il turista che viene, c'erano anche tante persone che ci chiedevano di come arrivare in piazza, fare il giro alla villa, è vero che c'è un percorso pedonale, forse anche bello, che passa per via di Colle Maggio, la villa, il nuovo emiciclo, però tanti ci chiedevano appunto di andare direttamente con il tunnel in piazza. È anche vero che purtroppo adesso è attivo soltanto pedonalmente, ma speriamo che insomma fra un po' di tempo si possa anche riattivare i tapirulani che hanno bisogno di una manutenzione straordinaria, abbastanza importante, visto che sono stati fermi per molti anni e che comunque siamo in attesa che adesso con il Comune di arrivare a questa conclusione per fare il ripristino totale di quello che è il tunnel, augurandoci che comunque una più ampia funzionalità del terminal a livello di tutti quanti i parcheggi che speriamo, da quello che abbiamo sentito e abbiamo avuto alcuni incontri con il Comune, ci dice che il centro verrà completamente penalizzato, quindi il megaparcheggio potrebbe diventare il fulcro di quello che potrebbe essere la parte principale dove parcheggiare per arrivare in piazza Duomo. Ecco, questo il Comune ce ne eravamo già occupati anche noi con l'assessore Mannetti, lo ha sempre detto, insomma appena loro hanno cominciato ad amministrare, hanno detto questo terminal, questo megaparcheggio deve diventare strategico, del resto è a due passi dall'Aquila, del resto ce ne siamo occupati anche noi, l'idea dell'amministrazione una volta che la città sarà ricostruita è quella di pedonalizzarlo, non proprio per intero ma fare delle isole come è accaduto già nella zona davanti l'emiciclo, un'isola pedonale completamente inaccessibile alle macchine. Ecco, la storia di questo megaparcheggio che non vogliamo, diciamo, stare a raccontare dall'inizio però è che questo megaparcheggio, Mauro Santilli, pur avendo un grande potenziale poi non è mai decollato. Oggi la situazione per voi è ancora più difficile perché a parte l'introito della tua, non essendoci parcheggio a raso, che il Comune per ora non rimetterà, è stato chiaro anche su questo, ovviamente voi dovete far fronte a tante difficoltà, abbiamo visto anche noi che l'utenza è poca di fatto. Sì, purtroppo l'utenza è poca, è poca perché comunque anche nelle zone limitrovi al parcheggio si può parcheggiare tranquillamente e liberamente. Quindi è normale che chiunque che possa parcheggiare in qualsiasi parte non ha certo interesse di venire al megaparcheggio. Però se il Comune, come dice, vuole incentivare questa cosa ci si può arrivare e cercare di fare funzionare veramente bene questo termine perché ha una potenzialità di circa 780 posti auto, quindi è una cosa importante con la rotazione potrebbe veramente servire a tanto. Alcuni uffici ci hanno chiesto anche convenzioni. Noi abbiamo proposto una convenzione all'università che adesso a breve si trasferirà in Palazzo Camponeschi. L'Inps ha nominato un mobility manager che ci ha contattato e ha contattato noi e so che ha fatto delle comunicazioni sia al Comune dell'Aquila che a Lama per avere una convenzione con parcheggio e abbonamento autobus. Alcune cose si stanno veramente muovendo, altri uffici anche sopra, prefettura, qualcuno ci chiedeva appunto eventuali convenzioni. Avevamo una convenzione con il call center che è a piedi piazza e anche lì avevamo fatto delle agevolazioni che poi è chiaro che loro ci chiedevano l'apertura del tunnel per un periodo è stato aperto, poi è stato richiuso e bisogna avere degli orari abbastanza lunghi con il tunnel per poter farli usufruire anche a loro. Attualmente il tunnel viene aperto con un orario che è dalle 8 la mattina alle 20. Ecco per la perdonanza ci sarà un orario diverso perché ci sono spettacoli estivi pensate insomma di allungarlo? Credo sicuramente di sì, adesso con il programma della perdonanza con il Comune vedremo come fare agevolare comunque tutti coloro che vogliono utilizzare il termine per andare in piazza insomma assolutamente. Ecco quindi un po' la strategia convenzioni con gli uffici pubblici e quant'altro in attesa che tornino anche altri uffici come ha ospicato più volte il sindaco Biondi. Parliamo insomma di una cosa un po' spiacevole che è accaduta, quel verbale del Comune sullo stato di degrado del megaparcheggio. Noi siamo venuti qui proprio per questo, per far vedere anche poi la vostra voce e com'è oggi il megaparcheggio. C'erano in effetti delle situazioni perché lei molto diciamo onestamente l'ha messa, in particolare erano state scattate delle foto ad un bagno, il Comune vi aveva fatto un sopralluogo e vi aveva fatto delle osservazioni. Oggi abbiamo visto e lo abbiamo visto insomma con l'occhio della nostra telecamera la situazione è stata completamente ripristinata. Sì assolutamente è stata ripristinata. Ci tengo a precisare una cosa che i bagni che sono stati fotografati all'epoca erano dei bagni che sono stati costruiti subito dopo il terremoto ed erano quelli che servivano per accogliere i pendolari che dalla costa rientravano all'Aquila. Tenete conto che il termine di Collemaggio ha ospitato veramente gratuitamente una serie di attività sopra il piazzale a partire da farmacia, banche, post, la confcommercio che a tutt'oggi è ancora presso di noi con degli uffici e quindi dovevamo comunque ottemperare a quello che era un'esigenza fisiologica delle persone e furono costruite questi bagni. Siccome sono bagni costruiti con una struttura metallica ogni volta che si è andato a lavarli quelli hanno avuto un degrado e quindi c'era della ruggine che si era formata. Quindi tengo a precisare che non erano sporchi ma era soltanto una usura di tutto quanto quello che si era utilizzato per pulirli fra i vari acidi eccetera. Adesso noi abbiamo ottemperato a questo facendo una maio licatura di tutto quanto quello che era il contorno dei bagni e anche togliendo il calcare che si era formato con l'acqua con il tempo. Ecco facciamo quindi tutto a posto oggi sia diciamo il cittadino e il turista troverà una situazione diversa. Mauro Santilli ha spiegato insomma anche le foto che cosa riguardavano nello specifico. La foto in particolare che ha fatto un po' discutere che poi ha spinto il comune a fare questo sopralluogo e il verbale. Un'ultima questione io vorrei affrontare prima di salutarci quella dei lavoratori. Ovviamente lo accennavo prima non avendo più i parcheggi a raso è immaginabile che gli introiti dell'MP siano cambiati e voi avete circa 16 se non erro dipendenti che sono qualche mese indietro. Però lei lo ha più volte detto la vostra volontà appena arrivano delle somme. Il vostro introito ad oggi è quello sostanzialmente della tua. Voi siete diciamo intenzionati a risolvere anche questa situazione e a non diciamo incrementare ancora di più questo ritardo? No assolutamente no. L'intenzione è quella comunque di garantire una serenità a quelli che sono i dipendenti. Perché devo dire che veramente i dipendenti qui da noi hanno hanno fatto e stanno facendo dei sacrifici veramente molto 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 grandi perché insomma rimanere indietro di tre o quattro mesi con gli stipendi non è non è semplice. Noi ogni volta che riusciamo a recuperare il pagamento di quello che ci deve la tua la prima cosa che facciamo è sistematicamente pagare il pagare i dipendenti. Attualmente siamo abbastanza indietro con con la tua siamo all'incirca di sette mesi che la tua ancora ci deve fare dei pagamenti. Però capiamo anche le loro difficoltà con i tagli che hanno avuto e quindi abbiamo avuto un incontro con loro quindi stiamo cercando in qualche modo di metterci in linea perché capiamo che anche loro stanno facendo dei grossi sacrifici e noi in qualche modo ne sopportiamo le conseguenze. Bene noi ringraziamo Mauro Santilli amministratore delegato dell'MP per la sua cortesia. Grazie a tutti i telespettatori che ci hanno seguito in questo viaggio all'interno del terminal di Colle Maggio e Luciana Celeste al di là della telecamera. Arrivederci.